La Urban City Fiat 500 Riva è piaciuta e come. Lo testimoniano le immatricolazioni che hanno girato la boa delle 10.000 unità. Con questa premessa, facile capire che a distanza di quasi un anno dal lancio della 500 Riva, il gruppo FCA ci riprovi. Con un nobile intento, festeggiare i 175 anni di vita del celebre cantiere navale di Sarnico. Cambia però la protagonista dell'alleanza. Quest'anno tocca al marchio Abarth, fare da partner, con un gioiellino derivato sempre dalla 500. Si tratta della nuova 695 Rivale, che sarà prodotta anche in un'edizione 175 Anniversary, limitata a 175 unità a tre porte e altrettante in configurazione cabrio. Con Abarth e Riva abbiamo lavorato tantissimo sull'incontro di questi due mondi e abbiamo scoperto un punto forte in comune. Il desiderio e la volontà di costruire, a partire dalle nostre tradizioni, dalla nostra origine, per creare e forgiare il nostro futuro. E quindi abbiamo di fatto una tradizione che ci porta all'eleganza, la performance e che si fonde in un unico prodotto, che è l'Abar 795 Rivale, che di fatto si riflette sullo yacht che vediamo alle nostre spalle e crea qualcosa di unico, perché ha tutta l'eleganza del marchio Riva, tutto l'abbinamento dei colori e dell'attenzione per il dettaglio che ci ha caratterizzato sempre sia noi, Abarth, che il marchio Riva e aggiunge a questo i cavalli, la performance, le prestazioni e la tecnica di una vera, come posso definirla, una mini super sportiva. Per la 695 Rivale è stata scelta una verniciatura bitono, mixando il Riva Blu Sera e il Riva Shark Grey e impreziosendoli da dettagli come il doppio tratto color acquamarina, che percorre la vettura all'altezza della linea di cintura, e le finiture satinate per le maniglie delle porte e per il portellone posteriore, che sublimano lo stile marinaresco. Sotto al cofano si trova i 4 cilindri 1.4 turbo da 180 cavalli e 250 Nm di coppia, che assicura lo 0-100 in 6,7 secondi e consente di raggiungere i 225 km orari. La colonna sonora è offerta dall'impianto di scarico sportivo Vaj Akrapovic. Il look e i dettagli di arredo sono ispirati al nuovissimo Open Riva 56 Rivale, uno degli yacht più eleganti e performanti mai costruiti in Italia, presentato in concomitanza con il lancio della Riva Abarth. Investire nella 695 Rivale costa 28.000 euro, nell'edizione limitata 175 Anniversary 31.695. Per le versioni scoperte bisogna aggiungere 2.000 euro in più.